Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Vi siete mai chiesti come sarebbe installare Windows 11 nella RAM e soprattutto quali potrebbero essere le reali prestazioni? Quello che voglio fare oggi fondamentalmente è un esperimento. Voglio installare Windows 11 su una chiavetta USB o su un SSD esterno per poterlo utilizzare sia in modalità persistente oppure in modalità live caricando tutto il sistema operativo e quindi la sua installazione all'interno della memoria RAM. Mi raccomando seguite il video fino alla fine in quanto vi illustrerò come seguire l'installazione e soprattutto andremo ad analizzare i benchmark del RAM disk contro un SSD NVMe M.2. Prima di procedere però come al solito vi invito ad iscrivervi sia al mio canale YouTube che al mio canale Telegram, vi lascio il link in descrizione, per restare sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video, corsi o aggiornamenti in generale. Di cosa abbiamo bisogno per preparare un dispositivo che possa avviare Windows nella RAM? Beh, abbiamo bisogno innanzitutto del sistema operativo, quindi dobbiamo procurarci un'immagine ISO di Windows 11, tra un po' vi faccio vedere come fare, anche se in precedenti video l'abbiamo già affrontato più e più volte, e abbiamo bisogno di una serie di software che io ho già inserito all'interno di questa repository mia personale, di cui vi lascio il link in descrizione, e che potrete trovare su github.com slash angelavv slash windows on RAM. I software che andremo ad installare saranno Grab4DOS, il bootloader, svbus, che è un driver per avviare i sistemi operativi in RAM, rmprep per poter installare Grab4DOS nell'MBR, e poi ci sono tutta una serie di file all'interno di questo repository per spegnere per esempio i requisiti di Windows 11 per quanto concerne TPM, dimensione disco, secure boot, eccetera, e il file LST per poter configurare il menu di avvio del nostro dispositivo. Dato che l'obiettivo è quello di avviare Windows all'interno della RAM, dobbiamo avere a disposizione tanta ma tanta RAM. Sulla mia workstation ho a disposizione 64 GB di RAM, quindi nel mio caso non è un grosso problema andare ad eseguire un'installazione completa di Windows 11. Tuttavia quello che potremmo fare per esempio è modificare il setup di Windows 11 per andare a rimuovere tutte quelle componenti di cui non abbiamo bisogno, per ridurre di fatto lo spazio occupato da Windows sul disco. Per ultimo, ma non per importanza, dato che l'installazione di Windows verrà caricata a partire da un dispositivo, dobbiamo procurarci una chiavetta USB o un SSD esterno, abbastanza capienti e veloci da consentire il trasferimento dal disco alla RAM. Fatte quindi le opportune premesse, andiamo ad eseguire l'installazione di Windows sul nostro dispositivo esterno, io utilizzerò un SSD da 240 GB e l'installazione la eseguirò all'interno di Hyper-V. Quindi in questa fase è importante anche avere un PC che supporti la virtualizzazione. Per poter scaricare Windows 11 è semplice, andiamo su Google, cerchiamo Windows 11 Download, clicchiamo sul primo link Microsoft e successivamente andiamo a scaricare l'immagine ISO di Windows 11. Andiamo a selezionare la versione e poi clicchiamo su Scarica. Scegliamo poi la lingua, io scelgo l'italiano, confermiamo e successivamente dovrebbe comparire il link di download. Clicchiamo quindi su 64 bit Download e il download partirà in automatico. Io ce l'ho già, quindi annullo il download. Dopodiché dobbiamo procurarci tutti gli strumenti che vi ho messo a disposizione all'interno di questa repository. Quindi all'interno di questa pagina clicchiamo Code e successivamente Download Zip. Scarichiamo il file zip e andiamo a scompattarlo. Inoltre dobbiamo attivare Hyper-V per poterlo utilizzare. Quindi da Start, attiva o disattiva funzionalità di Windows. E all'interno di questa dialog andiamo a spuntare Hyper-V. Dopodiché clicchiamo su OK, il computer ci chiederà di riavviare il sistema operativo, dopodiché avremo a disposizione la nostra console Hyper-V. Se abbiamo fatto tutto bene, andando a digitare Hyper-V su Start, dovremo poter aprire la console di gestione Hyper-V, all'interno della quale andremo a creare le nostre macchine virtuali. Tuttavia, prima di procedere con la creazione della nostra macchina virtuale, andiamo a configurare il nostro disco esterno, nel mio caso l'SSD. Inseriamo all'interno del nostro computer la chiavetta USB o l'SSD e da Start apriamo Gestione Computer. Da Gestione Computer spostiamoci su Gestione Disco e successivamente verifichiamo che il nostro disco esterno o la nostra chiavetta sia collegata. Assicuriamoci inoltre che il nostro dispositivo sia formatato in MBR. Infatti non potremo installare il sistema operativo in modalità UEFI, dovremo utilizzare la procedura Legacy. Per questo, per poter lanciare il nostro sistema operativo Windows 11 in RAM, dal BIOS dovremo attivare il CSM e disattivare l'avvio in UEFI. Per sicurezza eliminiamo tutte le partizioni sul disco, eventualmente salviamo i dati perché questa operazione è distruttiva, e per verificare che il disco sia formatato in MBR facciamo tasto destro e appunto verifichiamo che la voce disponibile sia converti in disco GPT. In questo modo avremo l'assoluta certezza che il disco è formatato in MBR. Fatto questo, andiamo a creare una nuova partizione, tasto destro, nuovo volume semplice, avanti, assegniamo una lettera, andiamo a formattare il volume, io lo chiamo Crucial, così come il nome del mio SSD, e clicchiamo Fine. Attendiamo la formattazione. Al termine della formattazione abbiamo bisogno di inserire alcuni file all'interno del nostro disco. Prendiamo il file menu LST, prendiamo Turnoff Requirements e li incolliamo dentro il disco. Inoltre torniamo dentro Windows on RAM, dentro Grab for DOS, e andiamo a copiare il file grldr e lo mettiamo dentro la root del disco. All'interno di questa cartella dobbiamo inserire anche i binari del driver svbus, quindi prendiamo fondamentalmente questa cartella e la incolliamo qui dentro e dobbiamo portarci anche l'immagine ISO del sistema operativo. Io l'avevo già scaricato, tasto destro, copia, incolla dentro Crucial. Adesso dalla cartella Windows on RAM andiamo ad installare rmprep usb, doppio clic sull'installer, procediamo con l'installazione del software. Eseguiamo rmprep usb, adesso dobbiamo installare il bootloader di Grab for DOS dentro la partizione MBR. Dato che io sto usando un SSD esterno il disco non viene mostrato, quindi all'interno di questa applicazione facciamo ctrl z e dovrebbe apparire, e installiamo Grab for DOS cliccando su questo bottone qui. Clicchiamo su sì, clicchiamo su ok. Al termine dell'operazione dovremmo visualizzare questa schermata, invio per chiudere. Non copiamo il file grldr dato che l'abbiamo fatto già prima e possiamo chiudere tranquillamente rmprep usb. Abbiamo installato l'MBR. Adesso torniamo all'interno di gestione computer e andiamo a costruire un hard disk virtuale, che sarà proprio quello che conterrà il nostro sistema operativo che monteremo all'interno della nostra RAM. Quindi da azione selezioniamo Crea file VHD, sfoglia, ci spostiamo sul nostro dispositivo e qui vado a chiamare il file win11.vhd. Salva. Impostiamo una dimensione del disco rigido virtuale. Io vado ad allocare 48 GB. Avendo a disposizione 64 GB di RAM vado ad allocare 48 GB per il disco di Windows e i restanti 16 GB verranno utilizzati per la RAM vera e propria. Chiaramente il disco va dimensionato in funzione della RAM in nostro possesso e soprattutto in funzione dello spazio occupato dall'installazione di Windows. Quindi se eseguiamo un'installazione standard, almeno una ventina di GB di RAM dobbiamo averle a disposizione. Quindi io vado ad inserire 48 e assicuriamoci che sia selezionato a dimensione fissa. Clicchiamo su OK. Attendiamo la creazione del file VHD. Vedete qui sotto c'è un progresso. Al termine della procedura visualizzeremo qui sotto il disco montato. Facciamo tasto destro sul disco da 48 GB e selezioniamo inizializza disco. Selezioniamo MBR come stile di partizione. Clicchiamo su OK. E andiamo a partizionare questo disco. Tasto destro, nuovo volume semplice. Avanti. Avanti. Non è necessario assegnare una lettera. Clicchiamo su Avanti. Inseriamo un nome a questo volume. Io lo chiamo Windows. Lasciamo spuntata la formatazione veloce. Clicchiamo su Avanti e clicchiamo su Fine. Adesso che abbiamo creato quindi il disco virtuale, facciamo tasto destro, scollega file VHD. Clicchiamo su OK. E prima di procedere all'installazione andiamo un attimo ad analizzare il contenuto di menu.lst. Lo apriamo tranquillamente col blocco note e cerchiamo di capire un po' meglio cosa ci ritroveremo all'avvio di Grab4DOS. Fondamentalmente qui abbiamo tre entry, la prima, la seconda e la terza, che ci consentono rispettivamente di avviare Windows 11 dalla RAM, avviare Windows 11 in modalità persistente, quindi per poter fare le modifiche, e avviare l'installazione di Windows 11. E' questo il motivo per cui abbiamo chiamato il file VHD Win11. Se abbiamo nominato il file VHD con un nome differente, assicuriamoci che appunto lo stesso si rifletta all'interno del file menu.lst. Inoltre, per quanto concerne il file ISO contenente l'installazione di Windows, assicuriamoci che lo stesso si chiami Win11.ISO. Quindi torniamo dentro il disco esterno e rinominiamo questo file in Win11.ISO. E' arrivato quindi il momento di creare la nostra macchina virtuale su Hyper-V per procedere con l'installazione. Prima di far ciò però andiamo a mettere in modalità offline il nostro disco esterno, altrimenti non potremo utilizzarlo all'interno di Hyper-V. Quindi tasto destro, offline. Spostiamoci nella console di gestione Hyper-V, clicchiamo su Azione, Nuovo, Macchina virtuale. Clicchiamo su Avanti, inseriamo il nome per la macchina virtuale, io inserisco Windows 11. E' importante selezionare Generazione 1, in quanto andremo ad installare Windows 11 in modalità Legacy, Avanti. Inseriamo la memoria di avvio della nostra macchina virtuale. Attenzione, è importante dare una quantità di memoria superiore alla dimensione dell'immagine ISO di Windows 11. Questo perché l'immagine ISO di Windows 11, che utilizzeremo per installare il sistema operativo, verrà caricata in RAM. Io vado ad allocare pertanto 16 GB di RAM a questa macchina, inserisco 16384. Clicco su Avanti e non vado ad inserire una connessione a Internet. Questo ci consentirà successivamente di applicare il bypass NRO e saltare la registrazione dell'account Microsoft, che in questo caso ci serve a poco. Clicchiamo su Avanti e selezioniamo Connetti un disco rigido virtuale successivamente, in quanto andremo a collegare il nostro disco esterno. Nuovamente su Avanti e poi Fine. Adesso, prima di avviare l'installazione, tasto destro Impostazioni, vado prima a disattivare i punti di controllo, in quanto non ho interesse a sfruttare questa funzionalità, e successivamente vado ad aggiungere un'unità disco rigido, proprio il nostro disco esterno. Clicchiamo su Aggiungi e andiamo a selezionare disco rigido fisico, in questo caso la mia unità da 240 GB circa, l'SSD esterno. Clicco su Applica e poi su OK. Adesso avviamo l'installazione. Facciamo doppio clic su Windows 11, avviamo la macchina virtuale e successivamente partirà Grab4DOS. Adesso andiamo a selezionare la terza entry del nostro menu per poter procedere con l'installazione di Windows 11. Attendiamo il caricamento del sistema operativo in RAM, per questo vi dicevo precedentemente di procurarci un disco o una chiavetta USB sufficientemente veloci, in quanto tutto questo contenuto verrà poi copiato nella RAM e lanciato. Quindi attendiamo il completamento del processo ed eccoci qui dinanzi all'installazione di Windows. Prima di procedere però dobbiamo disattivare i requisiti di Windows 11 e soprattutto installare il driver svbus. Quindi premiamo Shift F10 e andiamo a lanciare turnoff requirements.reg. Tipicamente sarà presente all'interno di C, però per coerenza digitiamo dir C e verifichiamo che i file siano presenti. Perfetto, ci sono. Quindi digitiamo regimport c slash turnoff requirements.reg. Adesso dobbiamo installare i driver di svbus. Quindi eseguiamo csvbus 1.3. Mi sto aiutando con tab. E il file dovrebbe chiamarsi instx64.exe. Perfetto, digitiamo invio e dovremmo ottenere questo messaggio di conferma. Adesso usciamo dal prompt dei comandi con exit e procediamo con l'installazione di Windows. Clicchiamo su avanti, installa, salto l'inserimento del product key, selezioniamo la versione di Windows. Il procedimento è pressoché sempre il medesimo. Clicchiamo su avanti, questa volta personalizzata e andiamo a selezionare l'unità 1 partizione 1, quella con il nome Windows. Formalmente la partizione è contenuta nel nostro file VHD. Clicchiamo quindi su avanti, attendiamo l'installazione di Windows. Al riavvio successivo è importante avviare Windows 11 in modalità persistente, quindi andando a selezionare file disk. Perché dobbiamo completare l'installazione del sistema operativo. Anche per il riavvio successivo, nuovamente Windows 11 file disk. Una volta raggiunta la configurazione di Windows 11, digitiamo nuovamente shift F10 e qui scriviamo OBI backslash bypass NRO. Questo riavvierà il computer e ci consentirà successivamente di proseguire l'installazione offline senza registrare un account Microsoft. Selezioniamo sempre Windows 11 in modalità file disk durante l'installazione. E adesso finalizziamo la configurazione secondo i nostri gusti. Il processo è lo stesso per tutti. Al termine della configurazione Hyper-V ci chiede di impostare una risoluzione per connetterci alla macchina virtuale. Selezioniamo quella che più preferiamo, poi accediamo al nostro account. Prima di definire la configurazione del sistema operativo come completata, apriamo il prompt dei comandi, digitiamo cmd, tasto destro, esegui come amministratore, sì, e andiamo a disattivare l'ibernazione in quanto ha poco senso in questo caso. Quindi da terminale, power cfg-h off. Adesso riavviamo il sistema operativo per applicare le modifiche. Start, riavvia. E adesso abbiamo quindi completato l'installazione e la configurazione del sistema operativo. Qui possiamo fare diverse scelte. Possiamo procedere con l'installazione del software che potenzialmente potrebbe servirci da un'installazione live di Windows 11, ad esempio. Oppure possiamo non preoccuparci in questo momento. Spegnere quindi la macchina e utilizzare il nostro disco esterno sui computer dove ci servirà. E poi successivamente magari installare volta per volta il software sfruttando la modalità persistente. Adesso che è tutto pronto, spegniamo la macchina virtuale e andiamo ad avviare il sistema operativo all'interno della RAM sul mio personal computer, sulla mia workstation. Torniamo su gestione computer. Rimettiamo online il disco che abbiamo usato dentro Hyper-V. E lo stesso si presenterà così. A questo punto possiamo anche decidere di eliminare alcuni file. Io tuttavia vi consiglio di lasciarli perché potrebbero sempre servire. I file che possiamo rimuovere sono rispettivamente la cartella svbus, il file turnoff requirements e l'immagine di installazione di Windows 11. Attenzione perché se andiamo a rimuovere l'immagine di installazione di Windows 11, dobbiamo poi rimuovere la entry relativa appunto a win11.iso. È semplice, basta cancellarla da qui e salvare il file tranquillamente. Io lascio tutto così e adesso riavvio e vi faccio vedere nel BIOS cosa ho configurato per avviare il sistema in modalità legacy. E soprattutto andiamo ad analizzare le performance di Windows 11 avviato nella RAM. Ed eccoci qui all'interno del mio BIOS, la configurazione è piuttosto semplice. Spostiamoci generalmente nella sezione boot e assicuriamoci che il CSM, il compatibility support module, sia attivo per poter eseguire il boot in legacy mode. E soprattutto andiamo a verificare che il secure boot sia disattivato. Una volta fatto questo andiamo a salvare le modifiche, dentro exit tipicamente troveremo la voce save changes and reset e successivamente andiamo ad impostare la priorità di boot andando a selezionare il nostro SSD o la nostra chiavetta USB come dispositivo da avviare prima degli altri. Ed eccoci davanti al boot menu, io vado a selezionare Sabrent, l'SSD esterno dove abbiamo preparato tutto. Visualizzeremo nuovamente Grab4DOS, questa volta invece di utilizzare Windows 11 in modalità persistente selezionando file disk andrò a selezionare Windows 11 RAM disk. Come potete notare il sistema sta copiando tutto il contenuto presente dentro il file VHD all'interno della RAM. Dato che io ho 64 GB di RAM, Grab4DOS andrà a copiare circa 48 GB all'interno della RAM. Questo purtroppo richiede un po' di tempo, per questo motivo vi avevo consigliato di scegliere per esempio una chiavetta USB o un SSD piuttosto veloce. In realtà la soluzione migliore e più efficace consiste nell'installare Windows 11 in modalità ridotta, quindi rimuovendo dall'immagine ISO le componenti che non ci servono, preparare un disco RAM disk piuttosto contenuto e utilizzare magari lo spazio sull'SSD per appoggiare i file che potremmo utilizzare durante le operazioni nel quale utilizziamo appunto Windows 11 in modalità live, in modalità RAM disk. Quindi in questo caso la procedura è un po' più lenta, in quanto devo copiare tutti i 48 GB in RAM, ma in questo caso si tratta più di un esperimento. Vediamo insieme qual è la vera velocità che avremo per esempio sul file system utilizzando Windows 11 su RAM disk. Windows sta eseguendo il boot. Siamo sul desktop di Windows 11 installato in modalità RAM disk. Faremo fondamentalmente due esperimenti, una copia di un file da 10 GB circa e il video di uno dei miei corsi su Flutter e ho installato Crystal Disk Mark e lo lanceremo per fare appunto un benchmark sulle varie velocità in lettura e scrittura del nostro RAM disk. Quindi prendiamo il nostro file tasto destro, copia e lo stesso lo vado ad incollare all'interno della cartella video tasto destro, incolla. Velocità di scrittura prossime ai 3 GB al secondo. Ok, questo più o meno è un test che lascia un po' il tempo che trova, dato che lo stesso file deve essere letto dal RAM disk e scritto in un'altra cartella del RAM disk. Andiamo quindi a cancellare questo file e proviamo a lanciare il benchmark di Crystal Disk Mark. Facciamo doppio clic, lascio tutto a default e clicco su All. Questi sono i risultati del benchmark. È impressionante la velocità in lettura sequenziale ma soprattutto la velocità in scrittura sequenziale. Abbiamo circa 15 GB al secondo in lettura e 19 GB al secondo in scrittura. Paga decisamente in penalità invece la scrittura dei file in segmenti di 4K. Questi tendenzialmente sono file molto piccoli che hanno una particolare rilevanza per esempio nell'avvio e nello spegnimento del sistema operativo. Quindi è ragionevole che il RAM disk dia il meglio delle sue performance nella copia di file molto grandi. Andiamo a confrontare invece con un SSD NVMe M.2 PCI Express. Sulla destra abbiamo i benchmark di un SSD Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2. È interessante notare la comparazione. Sebbene nel sequenziale il RAM disk sovrasti completamente un SSD NVMe M.2, c'è uno scenario in particolare nella lettura e scrittura di file 4K Q32T1 in cui l'SSD addirittura performa meglio del nostro RAM disk. A volte persino raggiungendo prestazioni quasi doppie. Quindi dando una rapida occhiata ai risultati di questi benchmark sintetici possiamo capire un po' meglio nel nostro scenario d'uso se è il caso di utilizzare un RAM disk oppure se è il caso di utilizzare un SSD particolarmente veloce. Diciamo che la naturale conclusione a valle di questo esperimento è che con l'avanzare della tecnologia e con l'aumento smisurato delle prestazioni dei dischi a stato solido utilizzare il RAM disk oggi potrebbe essere un pelino esagerato soprattutto per determinate applicazioni. Tuttavia se pensiamo invece di creare una chiavetta USB o un SSD d'emergenza nel quale installare i nostri tool per poter lanciare poi il sistema operativo in RAM beh potrebbe essere uno scenario particolarmente interessante da mettere in piedi. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Fatemi sapere con un commento qui sotto che cosa ne pensate in merito a questo tipo di installazione di Windows 11 all'interno della RAM se avete dubbi, domande o perplessità non esitate a lasciare un commento qui sotto sarò felice di rispondere alle vostre domande se il video vi è piaciuto io vi invito a lasciare un like se i miei video vi piacciono vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube e soprattutto ad attivare la campanellina per restare sempre puntualmente aggiornati sull'uscita di nuovi video per oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima! Grazie a tutti!